Il palinsesto di Fano TV si arricchisce a partire da questa sera per ben 10 puntate con un nuovo programma per promuovere e far conoscere borghi, tradizioni ed eccellenze di varie località del territorio provinciale attraverso testimonianze e curiosità dei protagonisti dell'entroterra marchigiano. Si tratta di Pro Tour, i protagonisti Il Territorio, format televisivo ideato da Fabio Turiani e Lino Balestra in collaborazione con il Comitato Provinciale delle Proloco. 45 minuti intensi nel quale anche gli aspetti insoliti, aneddoti e particolari saranno raccontati anche attraverso la storia, monumenti e le bellezze artistiche che contraddistinguono ogni borgo della provincia. Sant'Ippolito sarà protagonista della prima puntata in prima serata subito dopo il telegiornale serale. Partiremo con il borgo di Sant'Ippolito, la patria degli scalpellini e faremo un viaggio all'interno delle eccellenze di questo posto bellissimo come in tutti gli altri dove andremo perché io e Fabio Turiani che ha curato le immagini, la regia e il montaggio di tutte le puntate, volevamo dare una visuale un po' insolita di questi posti non parlando solo attraverso i monumenti, le case, le strade, i cenni storici ma anche attraverso le persone che vivono in questi luoghi con le loro arti, con i loro mestieri, con le loro eccellenze. Questa è stata un po' la visione. Poi andremo alla scoperta sia di posti sulla costa che più all'interno, andremo a Sasso Corvaro, andremo a Fratterosa, insomma alla scoperta di tanti borghi. Soddisfatto e orgoglioso il presidente Bartocetti sull'ideazione del progetto come ulteriori veicolo di promozione territoriale. Parte adesso con dieci puntate, saranno da questa sera tutti i venerdì e poi ci auguriamo che anche tutte le altre prologo del territorio aderiscano a questo progetto che è molto importante, importante perché riusciamo soprattutto a far conoscere il nostro territorio che è ancora sconosciuto dai nostri concittadini di tutta la regione Marche e molte eccellenze che molti non sanno nemmeno che esistano. Faccio un esempio, Pianello di Cagli, abbiamo degli scorci stupendi, straordinari, veramente bisogna andarci, bisogna vederli. Per rendersi conto abbiamo ideato assieme a Lino Balestre e Fabio Turiani questa programmazione di promozione del territorio che ci aiuta soprattutto a far conoscere il nostro territorio. Ci auguriamo che a questi progetti aderiscano le banche del territorio, le associazioni del territorio perché crediamo che lavorare insieme, lavorare per la promozione del territorio e soprattutto avere un progetto unico con tutte anche le associazioni di categoria e questo sia molto importante. Questo è Pro Tour, siamo alla prima puntata, seguiteci perché ne vedremo delle belle!